Io, Acqua e Cat, ossia i tre idioti di Roblox, ci siamo finalmente riuniti e oggi proveremo a scappare da nostro padre indemoniato. Alla fine però succederà una cosa che ci ha lasciato e che vi lascerà senza parole, fidatevi di me. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Papà, ma dove ci stai portando? Eh, ragazzi, dove siamo? Ragazzi, ma questo posto non mi ricordo qualcosa. Eh, questo posto mi ricorda un incubo, Cat. Io metto una persona. Oh, acqua! Da quanto tempo! Perché sei qui? Ciao! Ciao! Ciao, papà! Ciao! Come va? Ciao, papone! L'ho appena accecato. Papone, ti posso accecare? Papone! Eh, non muovere le braccia! Non muoverle! Allora, allora, tu sei Cat, tu sei acqua, perfetto, i tre idioti... Ma quant'è spazzatura c'è? Oh, fra! Oh! Hai aperto la porta? Si è decomposto papà! Ma ti è spazzato papà! È sparito papà! Oh, ragazzi! Quando è grande sta macchina! Si è terra asportata! Salve! Ah, dobbiamo pulire la trashies! Dobbiamo pulire che cos'è? La monnezza! La spazzatura! Vabbè, e non di mettere davanti però! Aspetta, aspetta! Prima di pulire la spazzatura, possiamo analizzare un po' la casa? Ciao papà, come sei bello! Allora, analizziamo! È veramente simile a tutti noi! Ma siamo fratelli? Qui c'è la Mona Lisa! Ma è un limone! Ma papà! Ma hai rubato la Mona Lisa? Ma come hai fatto? Che state facendo? Che state facendo? Ma poi che vuol dire un limone? È la Mona Lisa! È il mio cugino! No, non incominciamo, eh! Ok? È la Mona Lisa! È il mio cugino! Un quadro di Leonardo da Vinci! Ma quanto è grande sto telecomando! Guarda quanto è grosso! È là! Ma io lo sai già di pulire! Oh, oh, oh! Possiamo stare tutti calmi, per favore! Questo è palesemente un disegno fatto da Kat! Si pensano a puzzare! Guarda il monno liso! Ah, ma è la mia arte! Detto anche Patrick la stella! Potrick! Acqua! Oh, oh! Possiamo correre! Ma perché c'è della mannezza ovunque? Oh, possiamo prendere dei bicchieri! Acqua! Ragazzi, venite! Acqua! Vuoi dell'acqua? Sì! Aspetta che posso riempirla! Che bello! Aspetta, aspetta! Tieni, prendi! Dammi l'acqua! Dammi l'acqua! No! Dammela! Vabbè, va bene, con calma, con calma! Fermi, fermi, fermi! Ok, fermi, fermi! Che è successo? Vuoi dell'acqua? No! Non ne va! Ragazzi, ragazzi! Sì? Che vuol dire jumpscare anyone? Aspetta, posso farlo? Non farlo! Non farlo! Non farlo! Guarda! Ma guarda che bello! C'è Ken Kaneki! C'è Tokyo Ghoul! È vero! Ma sei sicuro che è Kaneki questo? Questo mi sembra... Ma ci sono io! Dove sei? Ma questo è quello di Tokyo Ghoul! Kat! Kat! Quello sono io! Qui ci sei tu! Guarda, questo è un gatto! Io vedo il contrario! Pure io! Come vedi il contrario? Io vedo quale! Ma io ci sono qui! Ah, fermo, questo è un cane! Ma quello è un cane! Allora, prima di tutto questo è un cane! Kat! Questo è un cane! Un cane! Lo vedi che è un cane? Ti sembra un gatto? E qui ci sono io! Oh, comunque, dobbiamo un attimo... Non ti devi mettere me più davanti! Ti spacco il bicchiere in testa! Ti spacco il bicchiere in testa! Ti spacco il bicchiere! Oh, l'ho fatto! No! Ehi! Infame! Oh, apri la porta! Allora! Il jumpscare! Il jumpscare! Il jumpscare! Il jumpscare! Aspetta! Aspetta! Allora, dobbiamo portare fuori la monnezza! Qui c'è altra monnezza! Piano piano! Esatto! Facciamo tutte le mansioni! Ah, ok! L'ho presa! No, ragazzi! Ma che è altra spazzatura? Ma dove? Questa casa... Scusate, sotto sotto sotto! Non mi piace moltissimo! Oh, aspettatemi! Ho paura! Sto morendo di fame! Un attimo solo! Polisci! Polisci! Ah, ma quando la spazzatura! Ma ci sei stato... Papà! Papà è volato via! Papà è sponato! No, papà era sul divano! Papà è volato via! E poi è sponato! E dove? Mamma un gas! Ma perché? Perché lo abbiamo portato qui? Ma perché? Perché io faccio ancora i video con voi? Put noodles! Ah, dobbiamo cucinare i noodles! Forse nel frigogs! Dai, sì! Come se fossimo all'olipedit! Cook noodles! Ma quando ci vuole per cookie noodles? Piano! È davvero molto! Aspetta, ma... Oh, aspettatemi! Aspettatemi! Ma il papone? Eccoci qua! Ma sono un imbecille! Stavo cuocendo il bicchiere d'acqua! Un attimo! Manca una funzione! Aspetta, cucca i noodles! Bravi! Così! Perfetto! Ok! Noodles pronti! Butto noodles! Mi manca uno! Eh, sì, ma io mi voglio alzare! Non voglio mangiare! Allora, papà! Parti chiare amicizia lunga! Tu i noodles non te li mangi perché sei a dieta! Cucino altri noodles! Ma quanti ne stai facendo? Perché mi manci, papà? Tanti! Ma quanti ne stai facendo? Posso farne degli altri? Eh, ragazzi! Mi sa che... Ragazzi! Eh, che è successo? In che senso non abbiamo vicini? Aspetta un attimo, ci penso io! Non abbiamo vicini! Aspetta, no, come Locked! Si può urlare! Eh, scusa, ho sbagliato! Mi sono caccato sotto! Aspetta, ci penso io! Ehi! Chi osa avvicinarsi? Oh, sta cocinando! Chi osa avvicinarsi a casa nostra? Gli ficco i noodles tutti in gola e lo faccio soffocare! Ok? Ti spacco la lampada in testa! Senti, senti, acqua bagnata! Ti spacco il piatto in testa! Ti spacco la luce, non importa! Ti spacco un piatto in testa! No! Si! La vedi questa benzina? La vedi la benzina? Non ti butto l'acqua addosso! Ti do fuoco! La vedi che sia scritta Locked? Te la do addosso! No, no, rovini sempre tu! Ma, che cosa c'è qui? Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare! Basta, basta! Oh, Locked c'è! Andiamo a mangiare! Andiamo a mangiare! Putto noodles! Drinking glass! Putto noodles! Vabbè! Mangiamo! No! Eh, ragazzi! Aspetta! Un attimo! Oh! Ragazzi! Papà, io! Scusate, è successo un problema! Fuoco! Perfetto! Papà, io mangio i noodles! Oh, li mangio tutti! Ne ho mangiati tantissimi! Fermo, fermo, fermo! Fermo, fermo! Li ho mangiati tutti! Papà! Ma io sto facendo una scorta! Ma io sto facendo una scorta! Ma io sto facendo una scorta! Oh! Che dobbiamo fare? Refilled generator! Ma che vuol dire fill del generator? Put water! Sto mettendo la water sopra i noodles! Water in the water! Ah, ho capito! Dobbiamo prendere la benzins! Aspetta! Posso dare fuoco a papà? Papà! Benzins! Ma perché scompare sempre ogni volta che voglio fargli qualcosa? Allora, papà, questa è benzina! Io ti do fuoco! No, no, non aprite! Non aprire! Non aprire! Non aprire! Aspetta! Aspetta! Non andare off to side! Non andare fuori! Papà! Papà, non andare fuori! Mi prego, non l'abbracciò da me! Non l'abbracciò da me! No, ma che watch tv! Io non la guardo la tv così! Papà, per favore! Papà, ti do fuoco! Mi prego! Dagli fuoco! Dagli fuoco! Ma la benza! Stai le fuoco! Uno dice che alle 10 dobbiamo stare a letto! Muoviti! Ok, ok, ok! Refilla! Ok, fatto! No, 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 no! Papà si arrabbierà! Scusa, papone! Come parli? Come parli? Ma lo sai l'italiano, l'inglese? Papà! Torna qua! Papà! Andiamocene, andiamocene a dormire! Ma... Veloce! Ragazzi! Sì! Ma c'erano tipo quattro cose! Perché sono solo due? È perché ne abbiamo usate due, io e Cat! La matematica non è un'opinione! Ma... Ma io in un'altra! Non sai né l'italiano nella matematica, ma è assurdo! Io dormo con il mio peluche! Allora... Aspetta, mi devo prendere un altro bicchiere di acqua! Voglio essere pieno di bicchieri di acqua e di noodles! Oh, ok! Take the water and drink the water! Oh! Moonwalk sull'acqua, gang! Posso... Posso sedermi sul bagno? Volevo dire sul batter! È un mix tra bagno e batter! Eeeh! Mimmi, cosa? Non lo so! Posso guardare il mio riflesso nello specchio, mamma mia, quando sono bello! E sai perché sono bello? Perché non c'è il riflesso! Ahahah! Mamma mia! Mamma mia! Che poeta moderno! Tu stai già dormendo, gavettone! Mamma la benzina! Perfetto! Dormite, dormite! Benza! Ragazzi, però, quella faccia di quel coso... Ma che aria condizionata! A me non mi piace proprio questa zona, li metto qua! Oh, ragazzi! Chiudi la porta! No, che vuol dire turn off all the lights! No! Dobbiamo spegnere tutte le luci! Dobbiamo spegnere le luci! Perfetto, allora... Eh, però, Babone, non puoi fare da solo! Ma accendete le torce che... Mamma mia! Ma aiuto, aiuto! La smetti di chiudere le porte? Ma non è possibile! Ma sei stupido! No! Dobbiamo accendere la TV... No, 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 non accendete la TV che escono le bambine sataniche dalla TV! Oh, oh! Chi smette il messaggio dall'FBI? No, ragazzi! No! Ragazzi, ragazzi! Ragazzi, c'è un uomo misterioso che sta andando a caccia nelle case delle persone... No, su una Porsche! Sì, 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 c'è scritto Porsche! Dice front Porsche! Credo che siano le porte in francese! Men on the Porsche! Le Porsche! No, stai in una Porsche! Ma ti pare che un pazzo psicopatico sta in una Porsche? Sì, the man on the Porsche! Dice in front! Invece c'è un uomo sul porco! Aspetta... No, che uomo sul porco? Senti a quest'altro! Allora... No, 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 aspetta, aspettate, aspettate! Allora, se apri quella porta, se apri quella porta ti segnalo il canale YouTube! Tu devi stare fermo adesso! Stai fermo! Stai fermo! Che già non fai video! Se te lo segnalo poi diventa un problema! Ragazzi! Oh! Oh! Ragazzi, guardate fuori dalla finestra! Oh! Sì, se magari ti levi guardo anch'io! Oh! Cosa fai? Scusa, scusa! Ma poi con chi sta parlando? Ma chi è quel tizio fuori? Allora, aprirò la porta, ok? No, no, non è vero! Eh, no, ce l'ho già provato, è chiusa! Ah, perfetto, dobbiamo andare sopra upstiles! Venite upstiles! Piano, piano, piano! Che vuol dire check di CCTV? Le telecamere, le telecamere! Ah, le telecamere sul computer, sta uscendo del fumo! Ragazzi! Check di CCTV! Levati i scorpi 3D! Ragazzi! Sono tutto sfogato! Go to sleep, go to sleep, go to sleep! C'è nessuno? Allora, ragazzi, ho spento anche la torcia! Silenzio! Silenzio! Ah, è papone! Resta in sua faccia sul muro! Ho fatto... Aiuto! Aiuto! Devo respirare! Allora... Ok, ora incomincia il gioco, ragazzi! Che vuol dire Survive the Night? Oh, ci sono solo 4 gas cans remaining! Ah, dobbiamo usare le telecamere! E vai a dormire quando papà sta arrivando! Tutto chiaro! Ah, abbassarsi è più sicuro che camminare! Dobbiamo dormire, mangiare e bere! Perfetto! La mia vita se non ci fosse un papà assassino! Sì, ma poi... Che dobbiamo fare? Ah, è tipo FNAF! Dobbiamo sopravvivere alla notte! Vai a dormire! Vai a dormire! Vai a dormire! Vabbè nel tempo! Io dormo! Io dormo! Ma se ho la torcia accesa, mi fa qualcosa? Non penso, papà! Te l'ho pure io! Vero, vero, papà! Oh, e te ne vai! Ma perché salta quando se ne va? Non ho capito! Sì, sto andando allo slip! No! Devo rialzare! Devo rialzare! Devo rialzare! Devo rialzare! Andiamo a mangiare! Ho sbaglio? Sì, possiamo stare accomacciati! Ma si corre! No, no, che si corre! Che si corre! Papà sta dormendo! Guarda quanto è brutto! Ti devi levare! Guarda quanto è brutto! Allora, Cat! Cat con molta calma! Cat con molta calma! Vai! Vai! Io c'ho ancora i noodle da cucinare! Tanto io vi osservo delle telecamere! Dove ci sono quelli giacotti? Ma cucinano pure questi? Eh, no, ce ne sono! Dove sono? Dio, quelli! Maggia Dio! Aspetta! No! Sta andando d'acqua! Sta andando d'acqua! Nasconditi! No, in realtà, mi sa che il problema ce l'avete voi! Dove sta? Dove sta? L'ho visto! Aspetta! Sta bloccato tipo al... Citto, citto, citto! Oggi sta arrivando! Citto, citto, citto! Che è bloccato! Citto, che è bloccato! Oh, si è buggato papà! L'abbiamo buggato! Citto, citto, citto! Aspetta che si è buggato papà! Sta correndo contro la TV! È diventato stupido! Abbiamo un altro papà! Sì, però io devo cuocere i noodle! Dici che li posso cuocere mentre scappo da papà? Oh, posso stare a due! Oh, come l'ossigeno? Pagno a correre in distanza! Eh, aspetta, aspetta! Ragazzi, c'è lui al... No, non c'è lui! Vai, Kat! Sono morto! Ragazzi, credo mi abbia ucciso! Però vedo la stamina che scende! C'è un problema! Ma voi? Dove siete? No! Kat è morto, è anche acqua! Io pure! Aspetta! Sì, ma aspetta un attimo! C'è un problema! Io sono morto, ma sono vivo! Quindi vuol dire che posso vincere tutto il gioco da morto! Ma davvero? Perché c'è la stamina che sta scendendo È come se il gioco mi percepisse vivo Ma in realtà non lo sono No, devo scoprirlo Se va avanti il tempo e vinco da morto Ho rotto completamente il gioco Io ancora non ci sto credendo Siamo arrivati alle 5 E sono ancora morto per terra Ragazzi, ragazzi, il gioco quindi finisce tipo alle 6 Come su FNAF Oh mamma mia, non ci posso credere Abbiamo vinto sta roba Senza vincerla ma vincendo da morti Guarda, siamo tutti collassati per terra Ma è bellissimo Non ci credo Non ci credo Abbiamo vinto così No vabbè ragazzi, un grande applauso Bravi tutti E mi sa che si è proprio rotto il gioco Ragazzi, si è rotto il gioco Sono ancora qui morto Sì papà Andiamo a mangiare Però mi servirebbe una mano Ma come what up? Ragazzi, ragazzi, si è buggato tutto Ragazzi, si è rotto tutto Abbiamo vinto Ma sono morto Ma come qualcuno ha posseduto la mia anima Non vedo più niente Ci siete voi morti esplosi per terra E non riesco a leggere A posto? Vabbè, tutto bene? L'importante è che abbiamo vinto No? Sì, l'importante è aver partecipato Essere morto e aver vinto lo stesso Rompendo anche Roblox Al prossimo video No! NO! Wooo! Ciao!